Salve a tutti i bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi facciamo il blog di Anthony. Cominciamo. E' uguale, è uguale, ma l'anno scorso è uguale così, forse è crescita la notizia, un centino, però l'anno scorso abbiamo portato una torta, questa sera, ho portato una cosa super fatta, una cosa che non puoi neanche immaginare, ti ho fatto venire sai chi? Vai, dovina? Ecco qui, è una sorpresa che l'ho detto anche prima, sta per salire qui sul palco. Facciamo un applauso? Miss Mondo Italia, eccola! Finchè io amo te, no? Tutte le altre poi, che fine fanno? Calvante! Ma poi l'ami con gli occhiali o senza occhiali? No, allora loro hanno, diciamo, diversi ruoli. Ok. Ci sono le mogli, ci sono le amanti e ci... Mi sposi! Allora, allora, le domande con molta calma. Cioè, mi sposi col buttetto ragazzo? Perché... Per cazzo. Ma perché volo sempre sta mano? Che devo fare? Perché volo la mano? Perché sono youtuber? Arrivo il gestito. Well! Allora, tempo per un'altra domanda, vediamo, vediamo il corico. Aspetta, aspetta. Centro euro questa domanda, vai! Ciao. Bye, bye. Grazie a tutti. Grazie a tutti.